Davide Bavala e Sofia Cerio stanno insieme, è ufficiale! Tutte le espressioni che vi dirò di fare C'è stato un bacio, shock Ma perché continuo a comprarmi maglioni a collo alto Se io il collo non ce l'ho? Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo nuovissimo video dedicato al fantastico magico mondo del collegio C'è stato un bacio tra Davide Bavala e Sofia Cerio Sarà vero? Sarà falso! O sarà che non ce ne frega un cazzo? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni o quasi qui Sul mio canale così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash e anche sul collegio Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio Valerio Ah e ricorda, sì proprio, tu che stai guardando questo video Cos'è che ti devi mettere se vuoi uscire di casa? Ti devi mettere la mascherina, punto! Ragazzi allora prima di iniziare il video devo chiedervi Scusa perché ieri era il 23, non è uscito nessun video Ma c'è un ma, grande quanto una casa come sempre E perché dico così? Beh perché ovviamente oggi è il 24 dicembre È la vigilia di Natale e non so voi ma io festeggio anche la vigilia, la sera E apro i regali insomma la sera Quindi per farmi perdonare del video che ieri non è uscito Oggi usciranno ben due video Questo è il primo, il prossimo uscirà tra qualche ora Penso che insomma uscirà tra circa due ore Ma vi aggiornerò magari, non lo so, nelle stories di Instagram Ovunque o comunque troverete il link del video Il prossimo, quindi il 24esimo vlogmas Qui sotto nel primo commento in evidenza Detto questo veniamo a noi Ovviamente non potevo concludere questo bellissimo percorso natalizio Fatto con voi qua su YouTube Se non con un bellissimo, insomma lo sapete, video dedicato al collegio Parliamo di una coppia super 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 chiacchierata Ma prima, come sempre, dobbiamo ovviamente aprire il nostro calendario dell'avvento Allora, prendiamo il nostro calendario e apriamo la casellina numero 23 Eccola qua, signori, venghino signori, venghino Eccolo qua, il cioccolatino di oggi è un Kinder Mini normale, classico Quindi, come sempre, momento ASMR per voi Niente, cade tutto a terra qua Che ve lo dico a fare, follettini e follettine E chi si rimborti? Adesso però, bando alle ciance, veniamo a noi Nuovo video dedicato al collegio 5 Nuovo video dedicato a una super nuova coppia Perché, ovviamente, parliamo ancora una volta di loro Davide Vavalà e Sofia Cerio Stanno insieme oppure no? Sono fidanzati oppure no? Che hanno fatto? Che hanno detto? Che è successo? Beh, per rispondere a tutte queste domande, insomma, diciamo che dobbiamo fare un attimo di chiarezza Ed oggi, ragazzi, sarà un video rivelazione Ma prima, vi ricordo che se vi siete persi i due video precedenti In cui parlavamo di questa coppia non coppia Amore non amore, insomma, non si è capito bene Cercavamo un attimo di mettere insieme i pezzi per capirne qualcosa di più Beh, se vi siete persi quei due video Ve li lascio qui nella i di informazioni Quindi, insomma, andateli a vedere E poi tornate qui Perché oggi un video dove veramente mettiamo un punto a tutta questa situazione Oggi, ragazzi, tutto cambia Dopo la fine del Collegio 5 Davide Vavala e Sofia Cerio finalmente si sono di nuovo incontrati Lei è corsa a Bologna dal suo tanto amato Davide Vavala Sembra che sto a fa i musicali, ragazzi, siamo tornati nel 2016 Vabbè, questo 14 fa niente Detto questo, comunque, andiamo avanti Perché, vi dicevo, lei è scappata lì a Bologna Direttamente da Strasburgo per incontrare il suo fidanzato Bah, adesso lo vedremo Davide Vavala E sono successe un sacco di cose I due stanno vivendo dei momenti magici Dei momenti di coppia Dei momenti da innamorati Ma noi andiamo con ordine Tutto è partito da una storia pubblicata dal nostro Davide Vavala Che, infatti, nelle sue stories di Instagram ha scritto Pubblicando questo bellissimo selfie Buongiorno, prima volta che mi vedete attivo prima delle 11 di mattina Dopo vi faccio vedere il perché E, indovinate un po', nelle stesse ore Chi stava andando, secondo voi, a Bologna? Beh, proprio la nostra Sofia Cerio Che ha pubblicato alcune stories Che però non ho screenshottato Ai ai ai, Fabrizio, cosa hai fatto? Anzi, cosa non ho fatto? Vabbè, insomma Ha pubblicato delle stories in cui, insomma, stava andando a Bologna In centro e, indovinate un po', in tempo zero Subito dopo aver dato il buongiorno da mezzo assonnato Il nostro Davide Vavala ci ha subito fatto vedere e capire Il motivo di questa sveglia presto E, infatti, ha pubblicato un selfie in compagnia di Sofia Cerio Scrivendo il perché Quindi, ecco, il motivo per il quale si è svegliato è che Sofia è andata lì a trovarlo E diciamo che da qui in poi, ragazzi, tutto ci farà volare verso l'inferito e oltre Oh mio Dio, sono super emozionated Ma non è finita qui, ragazzi Nel momento in cui si sono rincontrati Davide e Sofia Hanno deciso anche di fare un bellissimo TikTok Infatti, sul profilo TikTok, appunto, di Davide È stato pubblicato un TikTok nel quale sia lui che Sofia rivivono i momenti più intensi Più belli, più da coppia, potremmo dire Che hanno vissuto all'interno del collegio E, infatti, reagiscono, insomma, ripetendo queste immagini Facendosi degli ammiccamenti Guardandosi e, soprattutto, ridendo E, ragazzi, non so, ma vedendo queste immagini che anche voi state vedendo insieme a me Io mi sono sentito un po' parte della loro storia, ragazzi Lo sapete, noi viviamo gli amori dei nostri collegiali come se fossero nostri, no? Perché siamo tutti per la ship Davide Vavala e Sofia Cerio Anzi, non so, ma ditemi un attimo Come si chiama la loro ship? Perché non l'ho mai capito Oddio, ragazzi, adesso so già che i commenti saranno bombardati di nomi della ship Tra Sofia Cerio e Davide Vavala Ma, insomma, va bene così Grazie mille a tutti quelli che lo scriveranno Detto questo, ovviamente, la storia social d'amore Tra Davide Vavala e Sofia Cerio non è assolutamente finita qui Anzi, ragazzi, non avete visto ancora niente E dopo questo TikTok super fantastico, nostalgico dei tempi del collegio Ne arriva un altro che ci fa abbastanza ridere Questo perché sempre sul profilo TikTok di Davide Vavala Che, meno male che ci regala qualche gioia il suo profilo Vi dicevo che il secondo TikTok che viene pubblicato ci fa molto ridere Perché, lo sapete, Davide Vavala è molto, molto bravo a disegnare Blablabla, allora chiede a Sofia Cerio di fargli un ritratto Si mette lì in posa e Sofia inizia a fare un bellissimo disegno Ma, diciamo che il risultato non è quello sperato Vabbè, però ragazzi, insomma, sapete che vi dico? Cioè, Sofia è brava in tantissime altre cose Fa tutt'altro nella vita, sa parlare un sacco di lingue Cioè, sa parlare più lingue di tutti noi messi insieme E quindi ci sta che, insomma, non sappia disegnare benissimo Anche se vi dico che il disegno che è uscito Ma, io non saprei farlo Quindi, complimenti Sofia Perché io non sarei capace neanche a disegnare quello che hai disegnato tu Detto questo, comunque Vabbè, Davide Vavala invece Lui proprio è un artista nel fare disegni Anzi, vi consiglio veramente di andare a guardare il suo TikTok Perché fa dei video molto molto belli Detto questo, però, come vi dicevo Non è finita qui Cioè, non finisce mai qui in questo video Perché sono successe tante altre cose A fare più scalpore in assoluto In tutti questi giorni È una storia pubblicata dal nostro Davide Vavala su Instagram Nella quale, vabbè, intanto Si tratta di un selfie In compagnia di Sofia Cerio E grande, gigantesco Cioè, proprio, non so, enorme Sulla loro testa c'è scritto Un grandissimo Sì Ma sì che cosa? Cioè, fateci capire Sofia e Davide State insieme? Cioè, sì, state insieme? Sì, siete fidanzati? Sì, siete innamorati? Cioè, noi vogliamo capire Non ci basta un sì messo lì Buttato così Nelle storie Noi vogliamo Le certezze Noi vogliamo le gioie Cioè, noi vogliamo vivere insieme a voi Questo bellissimo amore Cioè, non so se l'avete capito Noi già siamo proiettati lì Come al solito Come dico sempre Noi, registi di film mentali Degli altri Sugli amori degli altri Perché già su di noi Proprio Lasciamo perdere Ci vediamo già lì All'altare O in chiesa O in comune O sulla spiaggia Dove vi pare A lanciarvi il riso Cioè, noi siamo già lì Capite? Quindi vogliamo sapere Se siete fidanzati Chiedo per un'amica E l'amica Sarei io E tutti quanti noi su YouTube Grazie E a buttare ulteriore benzina Su tutta questa vicenda E soprattutto su questo presunto amore Tra i due Beh, sono dei TikTok Che adesso Andremo a vedere insieme Il primo in assoluto Che viene pubblicato Credo sia stato pubblicato Da Davide Vavalà Se non mi sbaglio E, beh, in questo TikTok Diciamo che Sofia e Davide Sono insieme E Vivono una sorta di Boh, momento di coppia Non so come definirlo Bah, guardate Face challenge in italiano Ora dovrete fare Tutte le espressioni Che vi dirò di fare Fai una faccia felice Fai una faccia triste Fai una faccia pensierosa Fai una faccia schifata Fai l'occhiolino Beh, ragazzi Diciamo Diciamocelo Sofia e Davide Sono la coppia Con la C maiuscola Di questo collegio Cioè nel senso Sono veramente belli insieme Stanno veramente bene insieme E secondo me Non lo so Ne vedremo delle belle Ma ne abbiamo già viste Delle belle Perché il secondo TikTok Che volevo farvi vedere Che è super super shock Viene pubblicato proprio Da Sofia Cerio E in questo TikTok Lei utilizza un audio Quindi un suono Di sottofondo Che dice in inglese Oddio ma quanto è bello Cioè praticamente Sofia rappresenta Tutte le persone Che hanno visto il collegio E che hanno molto apprezzato Davide Quindi Sofia Sì diciamo che sei La voce del popolo Perché Infatti ragazzi Mi fa troppo ridere Perché Nei commenti di questi TikTok Ne ho lette di ogni Cioè tipo C'è chi vorrebbe essere C'è chi vorrebbe essere C'è chi vorrebbe essere Sofia E chi mente Oppure Quali erano gli altri Che ho letto Insomma sono bellissimi Insieme Sono fidanzati Ragazzi sono fidanzati E qualcuno Le ha anche detto Non fartelo scappare Riferito a Davide E lei Sapete che ha risposto Beh lei ha risposto Lo so Tipo sì No Non me lo farò scappare Insomma Ragazzi Ammettiamolo Siamo di fronte All'amore Che è scoppiato Nel collegio Cioè io sono molto Super emozionated Come sempre Perché Aiuto Cioè Davide e Sofia Sono veramente La prima coppia Di questo collegio 1992 Collegio 5 Cioè io sono Letteralmente Sotto shock Tra rose e fior Nasce l'amor Le emozioni però Non finiscono qui Infatti Nelle loro stories Di Instagram Davide e Sofia Hanno pubblicato Dei selfie Dove sono insieme Si abbracciano Si baciano Ci sono dei cuoricini Scritti tipo Con il minore E i tre ragazzi Che belli Sti cuoricini Scritti così Fantastici Al bacio proprio E ovviamente Questi selfie Bastano per farci Volare veramente Altissimo Nell'iperuranio proprio Ma C'è un ma Grande quanto una casa Come sempre E perché dico così Ovviamente è un ma Positivo Perché Volevo concludere Questo bellissimo video Dedicato alla coppia Sofia Cerio e Davide Vavalà Con un TikTok Che insomma Ci fa vedere Sofia e Davide Sempre più vicini Infatti In questo video Sofia sta ballando E ad un certo punto Viene placcata Da Davide Che la prende in braccio Insomma Più che prenderla in braccio Sembrava proprio Travolgerla Infatti Mi ha fatto molto ridere Questa cosa Ma Sono Io ve lo ripeto Sono molto carini insieme Quindi Non so Già vederli così affiatati Sui social Ci fa un po' sognare No? Perché Sono dei ragazzi Che in realtà All'inizio Al collegio Non ci dicevano nulla Ma nel senso insieme Perché in realtà poi Cioè Hanno due personalità Molto interessanti Sono stati Veramente molto bravi Al collegio Ma insieme Se non nelle ultime puntate Non ce li immaginavamo Cioè Io mi immaginavo Un'altra tipologia di coppia Cioè Davide con un'altra persona Lei con un'altra persona Povero Di Piero Che si è beccato Un palo in fronte Ecco Tutti quanti Noi siamo un po' Di Piero Perché Sì Di Piero Io ormai me lo ricordo Che si mangia i pasticcini Le patatine Proprio Così E Di Piero Sei tutti noi Cioè praticamente Di Piero O come tutti quanti lo chiamano Cravattino O l'avvocato Insomma Chiamatelo come vi pare Di Piero Sei veramente tutti noi Perché Mai una gioia Sì Ah ragazzi Mi stavo dimenticando Questa è proprio Un'ultima ora Su Sofia e Davide Vavalai Perché dico così? Beh perché Prima di registrare questo video Ho guardato le stories Di Davide Che E anzi Adesso lo andiamo a vedere Insieme Proprio in diretta Ragazzi Cioè assurdo Tutto questo Nei miei Quanti screen No ragazzi Adesso vi devo dire Quanti screenshot Ah vabbè 1500 No pensavo di più È che ormai Li cancello ogni giorno Quindi vabbè Comunque nelle sue storie Davide ha scritto Oggi cuoca Quanto mi fa esplodere la cucina Da 1 a 100 E si vede Sofia Che insomma Non so che sta a fa Però penso abbia Il latte Oddio Anch'io bevo quel latte No vabbè Che ridere Fantastico Comunque insomma Sono ancora insieme Siamo a un passo dal Natale Ma Sofia e Davide Forse passeranno queste feste insieme Quindi sono veramente fidanzati Cioè noi vogliamo sapere Ma lo sapete Che io in queste feste Vi terrò Comunque compagnia Molto probabilmente E scopriremo qualcosa in più Sulla coppia Cedio E vabalà Allora Io ho appena finito Di registrare il video E ho riguardato Le storie Di Davide Vabalà Ora io dico Voi non siete pronti A vedere Quello che ho visto io Perché Cioè Io Sono letteralmente sotto shock Cosa succede? Vado su Instagram Guardo il profilo di Davide Vabalà Vado avanti Vado avanti Vado avanti Questi se preparano le cose E a una certa Vedo questa foto Cioè ragazzi Voi siete pronti Io non sono pronto Aspetta che faccio lo screenshot Insieme a voi Proprio in diretta Qua così Che ve lo farò vedere Boom Cioè raga Di cosa stiamo parlando? Il primo bacio social Tra Davide Vabalà E Sofia Cerio È la seconda volta Che io Finisco questo video Ma ragazzi C'è ancora un altro Ma Grande quanto Una casa Come sempre E perché Dico così? Beh perché Mentre stavo per finire Questo video Davide Vabalà Trova No Giusto Due secondi Della sua giornata Per pubblicare Una bellissima storia Scusate Io qua sono con tutti Sti filtri Vabbè Sti screen Non so più Neanche parlare Per la troppa emozione Ragazzi Perché È ufficiale Siamo di fronte All'annuncio Di una nuova Coppia Del collegio 5 Anzi Forse direi proprio L'unica coppia Del collegio 5 Perché Nelle sue stories Davide Vabalà Ha scritto Mi state chiedendo Conferma In millemila Sì ragazzi Miei Siamo una coppietta Felice E qua ragazzi Cioè io Ma che vi devo dire Io non lo so Sarà che io sono Troppo romantico Non lo so Ma io ho la pelle d'oca Se voi foste qua Lo vedreste Ovviamente Perché ho veramente La pelle d'oca Sono molto contento Per questi due ragazzi Finalmente Una gioia In questo 2020 Ce l'hanno regalata Proprio loro Davide Vabalà E Sofia Cerio Stanno insieme È veramente Ufficiale Ed io sono Molto contento Anzi Non lo so Mi è riempito di gioia Questa notizia Sono molto contento Di avervela raccontata Perché è successa Quando? In queste ultime ore Potremmo dire Cioè neanche nelle ultime 24 ore È uscita questa notizia E ne abbiamo subito parlato Sul mio canale Perché insomma Davide Vabalà E Sofia Cerio Meritavano Un video Tutto quanto Per loro Detto questo però Adesso ragazzi Fatemi sapere voi Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Di tutto quanto Cioè io sono Non lo so ragazzi Sono super emozionated Perché Cioè Davide Vabalà E Sofia Cerio Stanno veramente insieme Oh mio Dio Cioè raga Il video può finire qui Spero tanto Che vi sia piaciuto Se è così lasciate un bel pollice in su Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E qui sotto trovate Tutti i miei social Dove potete seguirmi Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi noi Ci abbiamo provato Ciao